Siamo qui con Antonio Smorto degli Stingers, vittoria importantissima per voi, intanto che partita è stata? Una partita difficile, difficile perché venivamo da un momento di tanti infortuni, un momento in cui rientra un giocatore e ne perdiamo un altro, rientra Pandolfi, si fa male lo zio Costa la partita scorsa, quindi una partita complicata. Abbiamo giocato quasi un quarto e mezzo senza il nostro lungo per cui è uscito pure per cinque falli, quindi una partita complicata di squadra, finalmente direi una partita di squadra, perché come dico sempre i grandi sporti si lavano in casa e fortunatamente grazie a un lavoro di gruppo siamo riusciti a portare accanto questo risultato che per noi era importante. Hai detto benissimo tu, vittoria di squadra, infatti la situazione falli si è fatta complicata verso fine dell'incontro, però nonostante ciò, con l'aiuto dei giovanissimi, dei tuoi compagni di squadra, avete riuscito a portare a casa questo incontro. Come stai vedendo questa crescita dei tuoi compagni? Sicuramente per i ragazzi come loro avere dei punti di riferimento un po' più grandi che hanno fatto un po' più di esperienza è molto importante a livello di crescita personale. Diciamo che per crescere i ragazzi un po' più giovani hanno bisogno di un po' più di tempo, di conseguenza finalmente adesso dopo tanti sforzi, tanti allenamenti di gruppo stanno avendo i risultati. Musclella ha recuperato una palla alla fine, Sorbala si inizia a prendere le iniziative, Ciccio ha giocato da numero 5 in maniera inaspettata, quindi si è fatto trovare pronti. Sono contento anche perché le partite non le possiamo vincere solo noi grandi, siamo pochi, la squadra è questa, quindi o diamo il meglio tutti dal più grande al più piccolo oppure è tosta.